San Gabriele della Dolorata Francesco Possenti nacque ad Assisi nel 1838 e da bambino seguì i viaggi del padre, governatore dello Stato Pontificio Orfano di madre, si stabilì a Spoleto dove frequentò i fratelli delle scuole cristiane e i gesuiti A 18 anni entrò nel noviziato dei passionisti a Monrovalle, vicino a Macerata prendendo il nome di Gabriele della Dolorata Morì nel 1862 a 24 anni a Isola del Gran Sasso avendo ricevuto solo gli ordini minori Dal 1920 è Santo, patrono della Regione Abruzzo e copatrono dell'Azione Cattolica